ciao a tutti oggi è il 2 novembre e da parte dji ci sono delle grandi novità infatti è stato presentato il nuovo mavic 3 classic ma è anche arrivato un nuovo firmware per il mavic 3 vi spiego tutto dopo la sigla benvenuti in un nuovo video di quadricottero news il mavic 3 classic è un mavic 3 senza l'obiettivo tele quindi perde la capacità di zoom fino a 28x ha uno zoom digitale che si spinge fino a 3x rispetto al mavic 3 ci sono delle piccole differenze ad esempio quando si spegne il gimbal camera non si blocca non si blocca come invece si blocca sul mavic 3 è cambiata i copri gimbal la copertura del gimbal la cosiddetta museruola è leggermente diversa viene venduto anche senza radiocomando mentre il mavic 3 non ha una versione senza radiocomando le eliche sono uguali ma sul classic c'è un sistema diverso sul motore che impedisce di inserire l'elica sbagliata nel motore sbagliato naturalmente il prezzo è leggermente inferiore il mavic 3 classic costa poco di meno rispetto al mavic 3 potete trovare il link in descrizione video e tutto il resto è uguale soprattutto con l'aggiornamento firmware del mavic 3 che è uscito contestualmente oggi c'è però una grande differenza che presto sarà colmata anche dal mavic 3 e cioè il mavic 3 classic ha la marcatura di classe c1 ha proprio un adesivo sul braccio vedete c'è il simbolo della marcatura c1 del regolamento europeo significa che possiamo utilizzare questo drone fin da subito nella sottocategoria c1 delle open category vale a dire la possibilità di condurre i voli in modo in cui ragionevolmente non si prevede il sorvolo di persone non informate se accade dobbiamo minimizzare i tempi di sorvolo ma questo vuol dire anche che non ci sono distanze minimi da mantenere rispetto alle persone non informate e quindi è una gran cosa possibilità che oggi hanno i droni senza marcatura fino a 500 grammi che però nel 2024 finiranno in a3 perché scadranno le limite open category invece il mavic 3 classic potrà essere condotto in c1 oggi e per sempre anche se pesa 895 grammi appunto perché alla marcatura c1 come ho detto all'inizio oggi è stato rilasciato un nuovo firme sul mavic 3 che praticamente ha pareggiato i conti con il mavic 3 classic perché ha introdotto le novità del 3 classic come ad esempio la modalità notturna ma anche altre novità che riguardano l'obiettivo tele come al solito per fare l'aggiornamento firme se abbiamo l'rc il radiocomando con monitor integrato dobbiamo collegarlo a una rete wifi io l'ho già fatto perché altrimenti non riesce a capire se c'è un aggiornamento o meno una volta collegato alla rete wifi a un hotspot oppure appunto a un router possiamo andare a verificare se c'è un aggiornamento firme e se esiste aggiornarlo in questo caso esiste sia per il drone che per il radiocomando con monitor ma anche per gli altri radiocomandi come detto il firmware è il 900 finale è stato aggiornato anche l'rc n1 l'rc normale l'rc pro la dj fly sia per ios che android è stata portata alla versione 1.8.0 vediamo quali sono le novità allora per prima cosa è stata aggiunta la modalità notturna che è stata introdotta oggi con il mavic 3 classic è stata anche aggiunta al mavic 3 con questo aggiornamento funziona a 4k 30 fps e riesce a portare gli iso fino a 12800 tra poco vedremo come funziona poi è stata aggiunta la possibilità di settare la qualità degli hyperlapse per i d log è ora possibile settare gli iso fino a 1600 poi continuano i miglioramenti sulla camera tele in questa occasione è stata aggiunta la possibilità di fare gli spotlight e poi con la camera tele però il soggetto deve stare fermo quindi noi possiamo fare ad esempio un orbite intorno a un soggetto ingrandito con la camera tele quindi presumo anche fino a 28x e anche lo spotlight che vi ricordo ecco è la modalità che mantiene sempre il soggetto inquadrato indipendentemente da come muoviamo gli stick quindi qualsiasi movimento facciamo fare al drone pilotandolo manualmente lui cerca di mantenere al centro dell'inquadratura il soggetto che abbiamo selezionato poi come è stato introdotto sul Mavic 3 classic anche qua con questo aggiornamento è stato introdotto il cruise control cioè il regolatore di velocità è sufficiente premere il pulsante del radiocomando che a nostra scelta per far mantenere al drone la velocità che abbiamo impostato con lo stick quindi non c'è bisogno che manteniamo lo stick sempre nella stessa posizione possiamo anche rilasciarlo il drone mantiene la velocità che abbiamo deciso altra funzionalità molto attesa è la possibilità di variare le velocità nelle varie modalità quindi modalità cinema modalità normale e modalità sport possiamo variare le velocità massime sia quella orizzontale sia quella verticale e altre e poi altra grande novità come possiamo leggere è stato aggiunto il supporto per la marcatura c1 del regolamento europeo quindi come è stato fatto per il Mavic 3 classic che però ha già la marcatura c1 qua è stato aggiunto il supporto vuol dire che tra poco dji avvierà la procedura che aveva dichiarato e cioè quella che permetterà all'utente di eseguire alcune alcuni passi per ottenere la marcatura c1 retroattiva e quindi è una grandissima cosa anche perché dji ha detto che sarà una procedura gratuita abbiamo visto che questa è la versione 0900 del firmware probabilmente da qui in poi non si potrà più tornare indietro e allora vediamo velocemente per poi provarlo in volo le novità principali qua sono con la camera principale che arriva fino a 3x vediamo che abbiamo la modalità notturna modalità notturna che però non permette lo zoom quindi resta fissa il vantaggio della modalità notturna è che noi possiamo settare gli iso fino a 12800 poi il vantaggio del Mavic 3 rispetto al classic appunto lo zoom che arriva fino a 28x su cui però la modalità notturna non funziona come abbiamo appena visto tuttavia è una grande cosa e questa è la principale differenza tra i classic e il Mavic 3 normale tra virgolette ma passiamo all'altra novità a un'altra novità e cioè quella sul dlog per andare sul dlog bisogna andare sul tab fotocamera selezioniamo dlog e vediamo che abbiamo il display assistito a colori cioè quando noi attiviamo il dlog l'immagine che vediamo sul radiocomando è molto chiara quindi per evitare questa cosa possiamo attivare il display assistito a colori comunque la novità è quella degli iso sul dlog adesso possiamo arrivare fino a 1600 iso l'altra novità la troviamo nel tab comandi e cioè la possibilità di variare le velocità massime nelle varie modalità di volo cine normale e sport in questo caso siamo in modalità normale vedete che la velocità orizzontale massima è di 54 km all'ora possiamo anche cambiare oltre alla velocità del drone anche la velocità del gimbal camera comunque vedete velocità orizzontale minima meno di 3,6 km all'ora non si può scendere sarebbe un metro al secondo velocità massima 54 km all'ora in sport invece la velocità massima 66,6 km all'ora questo perché appunto c'è la questione della marcatura e quindi oltre i 19 metri al secondo un drone c1 non può andare se poi andiamo nel tab comandi per personalizzare i tasti del radiocomando in questo caso l'rc con monitor integrato possiamo scegliere ad esempio di abbinare alla pressione del pulsante c2 l'attivazione del cruise control che è il controllo della velocità e allora vado a vedere che novità ci sono per quanto riguarda la certificazione c1 del regolamento europeo non ho trovato niente di nuovo c'è sempre la voce identificazione remota us che ci permette di inserire il nostro numero di registrazione operatore su the flight inserendo anche le tre cifre segrete ma questa è una voce che c'era già con i precedenti firmware quindi la voce supporto per la marcatura c1 in questo momento visivamente non ha aggiunto nessuna novità probabilmente è il primo passo per poter far avviare all'utente la procedura per la marcatura retroattiva cosa che aveva annunciato dj nel frattempo mi piacerebbe sapere cosa ne pensate la differenza di prezzo tra mavic 3 classic e mavic 3 con camera tele non è elevata e non so se convenga effettivamente comprare il mavic 3 classic se anche il mavic 3 come tutto fa pensare avrà la marcatura di classe quindi alla fine la differenza sostanziale tra i due droni e la camera tele se non ci serve possiamo risparmiare quei 150 200 euro se invece ci serve allora mavic 3 è la scelta obbligata in particolare con questo aggiornamento che l'ha portato a livelli veramente eccezionali bene direi che per ora è tutto è un video introduttivo seguiranno prove di volo e tornerò sull'argomento marcatura perché c'è qualcosina che ancora non mi quadra ma ne parlerò prossimamente nel frattempo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione lasciate un like se questo video vi è stato utile e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutte e buona continuazione alla prossima con quadricottero news